Alcuni materiali, quando sono aggiunti ai liquidi, formano grumi che un agitatore convenzionale non riesce a disgregare. L'azione di alto taglio di una testa di lavoro rotore-statore Silverson sgretola con rapidità i grumi, esponendo maggiori superfici di solido al circostante liquido. Il risultato è una soluzione priva di grumi in pochi minuti. Aggiungendo un mixer in line ad alto taglio ad un impianto esistente, si potrà ottenere rapidamente un prodotto privo di grumi, migliorando il prodotto e la consistenza di lotto in lotto.